Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò, tre giurati dai palati molto esigenti, due cuochi appassionati per una sfida infuocata, quattro prove, manualità, abilità, creatività, presentazione e a condire il tutto la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme.